Quattro 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 Dove aver fatto tante lascune Per tre minuti e trecchie Allentio 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 non passare da lato per favore non passare da lato la polsiera il match non passare da lato Senta, arriva, arriva. Ma vi fai. Adesso, delle chiavi. Senta, l'intruso per far cos'è. L'intruso per cos'è. Sì, è il chiedito. Vai, Feller. Teni un gioco alla rachetta di Roger Spitter e retro parto. Alla, l'intruso per cos'è. Vai, Feller. Vai, Feller. Avanzo! Senta, l'intruso per cos'è. Senta, l'intruso per cos'è. Se vuoi, puoi facciare il punto. Se vuoi, puoi fermare il punto. I'amoi, Feller. I'amoi. First serve. I'amoi, il primo serve. I'amoi. Il primo serve. Il primo serve, non è il primo serve. I'amoi. Vediamo. No, 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 no... No, 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 no... Arriba! 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 Non ci sia. Sì, 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 sì. 2 3 4 4 5 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 20 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì.